La data del primo luglio come nuovo traguardo per l'entrata in vigore della tassa di sbarco a Venezia non convince il Partito Democratico. Per bocca del consigliere comunale Emanuele Rosteghin, da Caffarsetti, il partito si lancia all'attacco sulle scelte della Giunta Brugnaro in materia di flussi turistici. Ma il primo luglio si partirà davvero? Questa la risposta disincantata di Rosteghin. Difficile pensare che possa essere definitiva. Lo slittamento ulteriore di questa amministrazione al primo luglio lascia tutti quanti con la mara in bocca e sbalorditi. È l'ennesimo rinvio, peraltro dopo le prossime elezioni amministrative. Di fatto questa amministrazione ha deciso di non voler governare i flussi turistici, di rimandare dopo cinque anni e di alzare bandiera bianca. L'esponente del centro-sinistra non nega che introdurre questa novità nella gestione dei flussi turistici in centro storico, con porti diversi tasselli da mettere al porto giusto. Che l'introduzione del contributo d'accesso sia una cosa complessa, l'avevamo detto fin dall'inizio, tanto è vero che proprio nei nostri emendamenti chiedevamo un ridisegno di questa tassa, cosa che ovviamente non è stata accolta da questa maggioranza. Secondo Rosteghin il problema è più ampio e si va al di là delle questioni tecniche. L'accusa è che manchi una gestione reale sul turismo, tra l'invasione di turisti e il proliferare di hotel a Mestre. Dopo quattro anni questa amministrazione sta ancora dicendo che vuole contare il numero di turisti. Ormai siamo a ridosso delle prossime elezioni amministrative, ci penserà la prossima amministrazione, speriamo diversa da questa.